Bentornati a Panorami. L'invasione russa dell'Ucraina è una battaglia, una guerra che si combatte su molti fronti, come si sente ripetere giustamente spesso. C'è una guerra militare sul terreno, naturalmente, combattuta con tecnologie differenti, c'è una guerra dell'informazione e della disinformazione e c'è, decisiva dal punto di vista economico, una guerra per l'energia. Da resto guardare quella che è la configurazione dei paesi dell'Unione Europea rispetto al tema dell'embargo del petrolio e soprattutto del gas russo restituisce per l'appunto una serie di divisioni che sono divisioni anche di linea politica da tenere nei confronti di Mosca e del milino. E naturalmente questa linea si sovrappone con quelle che sono le importazioni di gas innanzitutto russo, che pesa per il 90% sulla Bulgaria in termini di soddisfacimento del fabbisogno, per il 60% per paesi come l'Austria, la Slovenia e la Finlandia, che ha annunciato nel frattempo la sua volontà di aderire alla Nato e pesa per il 45% su paesi come l'Italia e la Germania. Circa il 45% perché soprattutto nel caso dell'Italia questa percentuale è in discesa. Ecco, vedere queste linee di frattura, queste faglie, letteralmente spiega perché l'atteggiamento della Commissione Europea sia decisamente possibilista e anche ambiguo dal punto di vista del pagamento delle forniture di gas in rubli, tanto che di fronte a questa ambiguità ed ambivalenza alcuni paesi si stanno già attrezzando appunto per aprire un secondo conto in rubli ottemperando ai diktat del Cremlino. Nel frattempo Putin ha incontrato gli oligarchi dell'energia, dicendo loro che sostanzialmente, e le dichiarazioni vengono interpretate anche naturalmente in una chiave di rassicurazione politica rispetto all'interno di timore che le fibrillazioni tra i oligarchi possano scaricarsi sul potere putiniano, sulla sua tenuta, che in realtà l'Europa accetterà e non andrà nella direzione effettivamente di ridurre in maniera significativa l'import di gas proveniente dalla Russia. In realtà l'Unione Europea si sta attrezzando, lavora lacremente da questo punto di vista e anche se le divisioni, come ricordavamo, ci sono, c'è una direzione di marcia che è stata intrapresa. Certo, richiederà molto tempo e il tempo è l'alleato principale di Putin da questo punto di vista, perché gli consente di continuare a drenare risorse con le quali finanza la sua invasione neoimperialista dell'Ucraina. Nel frattempo anche l'attore americano si muove naturalmente. Si muove indicando come proposta, fatta da Janet Yellen, la presidente della Fed, un'ipotesi di dazio sul petrolio, di nuovo per lasciare un po' di tempo agli europei, ma lanciando un messaggio politico molto chiaro e con l'idea di diminuire i margini di profitto della Russia, appunto, sulla risorsa petrolifera. E ancora la Commissione Europea ha presentato il suo piano di accelerazione Repower EU nella transizione energetica che era stato accantonato nel corso di questi mesi di guerra, che prevede una velocizzazione della concessione delle autorizzazioni rispetto agli impianti per le rinnovabili e una discisa virata nella direzione dell'idrogeno come risorsa energetica. Naturalmente, come presumibile, nulla sarebbe cambiato in poco tempo a causa del fabbisogno enorme e delle relazioni molto strette, un grande problema di politica energetica di cui non si è compreso anche la rilevanza dal punto di vista della dipendenza politica nei confronti del gas proveniente dai giganti russi. Però il meccanismo si è avviato e se la velocità per l'appunto è molto discutibile e non all'altezza di quello che sta avvenendo purtroppo in Ucraina, il dado è tratto e le direzioni di marcia sono appunto segnate. E anche il progetto della transizione energetica ha subito una battuta d'arresto, ma continuerà a rimanere il faro per l'Unione Europea, che continuerà peraltro a essere divisa al proprio interno, ancora una volta, ma questo è un progetto di governance complessiva e rimanda alla grande questione delle riforme istituzionali dell'Unione Europea, che naturalmente sono state ulteriormente congelate dalla guerra. Però le sanzioni richiedono tempo, le transizioni richiedono tempo e questo processo e questo percorso, che è comunque avviato e in itinere, porterà i suoi risultati, isolando ancora di più la Russia, sicuramente nel futuro.